In A15 ci sono 11 km di coda per lavori tra Aulla e Berceto, in A11 in direzione Firenze per un incidente 7 km di coda tra Pistoia e Prato Ovest, ci sono poi rallentamenti tra Alto Pascio e Pistoia, in A1 in direzione Bologna, code tra Chiusi e Valdarno, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze e Pistoia. In A12 ci sono code a tratti tra la diramazione Lucca-Viareggio e Massa in direzione Genova. A Firenze, per i lavori della tramvia, restringimento di carreggiata in via di Novoli tra via Torre degli Agli e via Tagliaferri. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!